Dopo la chiusura della trattativa per Teramo Calcio e Stadio Bonolis, il diavolo deve iniziare a pianificare le mosse future, partendo dall'organigramma, che allo stato attuale consta di direttore generale Emilio Capaldi in scadenza 30 giugno, direttore sportivo Sandro Federico con ancora un anno di contratto e il tecnico Agenore Maurizzi che ha un accordo firmato con scadenza giugno 2021. In più ci sono giocatori che avevano un legame anche per la prossima stagione. Ma la nuova dirigenza, con a capo Franco Iachini, sembra voler dare una sterzata rispetto al recente passato. Ad esempio, la figura di Andrea Iaconi è sempre più forte. Il dirigente ex Pescara è stato contattato recentemente e anche in questi ultimi giorni rimane costantemente aggiornato sulle mosse della società. Probabilmente questa settimana sarà importante per capire se ci sarà o meno la possibilità di portarlo in bianco-rosso. Due le soluzioni possibili o in collaborazione con Federico nel ruolo di responsabile dell'area tecnica in grado di interfacciarsi con il direttore sportivo per stilare il piano tecnico del diavolo oppure in solitario e in una circostanza simile Federico non avrebbe spazio nell'organigramma. Su questi scenari si ragiona anche in queste ore e riflette anche lo stesso Iaconi che non escluderebbe un'esperienza a Teramo ma solo a fronte di un progetto ampio che non si limiti soltanto all'allestimento della Rosa per la prima squadra ma guardi in una prospettiva a medio-lungo termine anche al settore giovanile che possa essere nei prossimi anni un serbatoio per rinforzare la prima squadra. Che in ogni caso sarà rinforzata o completata in questo senso scendono le quotazioni di Maurizzi che potrebbe non essere confermato dopo la salvezza conquistata in questa stagione. L'allenatore di Colleferro però ha ancora 24 mesi di contratto sottoscritti a inizio 2019. Se il diavolo ha davvero deciso di farne a meno o spera che Maurizzi trovi un'altra squadra liberandosi dal vincolo bianco-rosso oppure la nuova società dovrà sedersi a tavolino con l'allenatore per discutere la buon'uscita. Addirittura appare che qualche idea sul prossimo timaniere sia già nella testa della dirigenza. In attesa che il passaggio di proprietà si concretizzi con le firme notarie che a questo punto però saranno una formalità. Il binario però sarà doppio perché tra due settimane c'è anche la deadline per l'iscrizione al campionato.